Ecco il rover marziano progettato in aula dagli studenti dell'Università Polacca Wroclaw. Sono certi di aver realizzato il robot più stabile, leggero e veloce per la scoperta di Marte. I ragazzi partecipano al concorso European Rover Challenge per il design delle prossime macchine che scorrazzeranno sul pianeta rosso. Il modello da loro ideato e che vediamo in queste clip si chiama Scorpio 4 e secondo il leader del gruppo non solo vincerà il concorso ma forse aprirà loro le porte a una carriera nell'industria spaziale.